ma cosa è successo non credo ai miei occhi ma io sono felice ma io sono felice non è finita ma io sono felice cosa è successo i macachi che prendono a schiaffi un real madrid in questo modo ma un interista non può essere che felice veramente sto dicendo non è che rosico sono felice perché l'inter vince la champions è così cioè se questi qui hanno preso a schiaffi il real madrid questi qui cioè l'inter vince l'inter vince la champions è un segnale questo qua stella io sono felice e questo è il real madrid l'inter abbiamo vinto abbiamo vinto la champions possiamo prenotare già dov'è la finale lì sono felice i gobbi che non ce l'hanno fatta a lille lì 280 milioni un grande milan ma se questo è il real e il milan l'ha battuto abbiamo vinto la champions l'inter vince la champions e sfranghi l'inter prenotate l'inter vince ma contro questi qua ma già 6 la star è